Notizie di oggi, storia di domani. Sono Dan Vapid e questo è il notiziario di Ninjago City. Caos, palle di fuoco, serpenti! La nostra città è sotto attacco dunque. Di nuovo. Diamo la linea al nostro reporter numero uno, Fred Finley, per questa notizia dell'ultima ora. Fred? Fred Finley per voi, cinque volte premiato come miglior reporter. Mi trovo al centro di Ninjago City per aggiornarvi sulle condizioni meteorologiche. Palle di fuoco che cadono dal cielo. E non sono normali palle di fuoco. Queste sfere infiammate si trasformano in serpenti di fuoco. Hai detto palle di fuoco che si trasformano in serpenti di fuoco? Esatto, Dan. E scommetto che riuscite a sentire le terrificanti grida e urla dei cittadini di Ninjago qui dietro di me. In particolare la domanda nella mente di tutti è... Dove sono i ninja? Neanche uno dei nostri migliori protettori si è presentato per proteggerci in questa situazione di emergenza. Perché i nostri grandi eroi di Ninjago scelgono di abbandonarci in un momento di bisogno? A te la linea, Dan. Ottimo resoconto, Fred. E anche preoccupante. Torneremo alle notizie della distruzione della nostra città. Ma prima qualcosa di meno importante. La nostra sempre affidabile Gale Gossip ci racconta della competizione dei cuccioli di quest'anno al format. Gale? Perché danno sempre le ultime notizie a quello sbruffone di Fred? Sono due volte più brava di lui. Solo perché si è sbiancato i denti o almeno così pensano tu. Gale? Non difenderlo, Vinny. È un infida vipera, non un reporter. Gale? Oh, e ti dico anche un'altra cosa. Gale, siamo in onda. Cos'è più divertente dei cuccioli? Cuccioli da coccolare. Sono Gale Gossip, indiretta da uno degli eventi annuali più affascinanti di Ninjago City. Il concorso annuale della Furmar Cuccioli da coccolare. Oh, ti prego, dimmi che l'hai ripreso. L'ho fatto, l'ho fatto. C'è stata un'interruzione inaspettata. La Furmar è stata appena attaccata da quelli che sembrano essere serpenti infuocati. Gale, dobbiamo andare? Sì, ma certo. Dopo quei serpenti, il vero scoop è questo. Altro che cuccioli. Sembra ci siano delle difficoltà tecniche. Cogliamo questa opportunità per una pausa pubblicitaria. Ci rivediamo dopo questi messaggi. Non siete stanchi di evacuare Ninjago City a piedi? Non preferireste invece evacuare costile? Comodamente al volante della vostra personale macchina usata? Nella rivendita di auto usate di Smith Daryl abbiamo i veicoli più convenienti della città. E queste offerte sono calde, calde, calienti, calde. Venite da Smith Daryl, vi aspetto. È meglio che lo facciate ora, immediatamente. Questi affari non dureranno per sempre. Oh no! Scorri! Non credi che probabilmente dovremmo rientrare? Il bagliore infuocato di queste palle di fuoco finirà per bruciare la nostra pelle. Nella mia, caro. Ho con me il filtro antifuoco protezione 3000. Ma dai, funziona veramente. Beh, è ovvio che funziona. Filtro antifuoco protezione 3000 non blocca il fuoco. Causa eritemi, irritazioni, vertigini, perdita di capelli e dislessia. Usare con cautela.